il lupo che si emozionava troppo. C'era una volta un lupo che viveva con i suoi amici in un bellissimo bosco, si chiamava lupo. Questo lupo aveva un problema, era troppo emotivo, allegro, arrabbiato, triste, eccitato, cambiava umore alla velocità della luce. Quando l'allegro fischiettava e scherzava con il cuore leggero, parlava con le piante, era pieno di energia e di idee per divertirsi. Cucù, Giosuè, vieni a caccia di farfalle con me? Ehi, Luigione, facciamo un gigantesco dolce alla crema? Ma se qualcuno lo contrariava, ah, si rabbuiava, esplodeva e mandava a quel paese tutti quanti. Devi imparare a stare calmo, lupo, gli disse un giorno mastro gufo sfinito. Così ci fai girare la testa. Imparare a stare calmo. E perché? chiese lupo. Per essere più sereno, spiegò Valentino. E più ganso, aggiunse Giosuè. Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi, domani cominciamo l'allenamento zen. L'indomani lupo andò a casa del suo amico. Per controllare le emozioni, lo yoga è perfetto, dichiarò Giosuè. Respira tranquillamente e crea il vuoto dentro di te. Giosuè fece una posizione dopo l'altra. Il loto, la montagna, il ponte e lupo cercava di imitarlo. Non era facile, ma era molto divertente. Lupo non riuscì più a trattenersi e scoppiò a ridere. Forse lo yoga non fa per te, sospirò Giosuè. Fuori c'era Alfredo ad aspettarlo. Non c'è niente come lo sport per sfogarsi, disse. Ti ho preparato lo speciale programma lupo scalmanato, sei pronto? E partì come un razzo. Dietro di lui lupo correva, saltava e si arrampicava. Alfredo si fermò ai piedi di un albero enorme. Ci vediamo in cima, gridò, e sparì tra i rami frondosi. Arrivato sulla sommità, lupo guardò in basso e gli si chiuse la gola. Il cuore prese a battere l'impazzata e le zampe a tremare. Alfredo, ho paura di cadere! Era terrorizzato. Calmati lupo, sono qui con te. Adesso scendiamo insieme, piano piano. Lupo fece un gran respiro e tutto tremante scese fino a terra. Hai vinto la tua paura, devi essere fiero di te, si congratulò Alfredo. Lupo sorrise. Sì, era proprio fiero di sé. Questa avventura mi ha fatto venire fame, disse lupo. Perfetto, Luigione mi aspetta a casa sua. Luigione era in cucina con lupa, con le mani piene di farina. Hanno l'aria di divertirsi insieme, pensò lupo, geloso. Ciao lupo, disse lupo. Oggi facciamo i macarons. Sono dolci, molto delicati. Bisogna seguire la ricetta passo passo ed essere molto pazienti. È un buon esercizio per te, no? A queste parole lupa scoppiò a ridere. A lupo saltò la mosca al naso, diventò tutto rosso, batte un piede ed esplose. Ecco, vi burlate di me, urlo arrabbiato. Beh, me ne infischio e comunque non ho alcun voglia di preparare stupidi dolci con degli stupidi. Ma dai, lupo, che cosa ti succede? Sbuffò lupa sbalordita. Ma lupo era già lontano, bofonchiava tra sé e dava zampata agli alberi. Poco a poco lupo rallentò il passo fino a trascinarsi come una lumaca. Aveva il cuore gonfio di tristezza. Tutto gli sembrava grigio. Una lacrima gli rotolò sul muso. Non avrei dovuto arrabbiarmi, piagnucolò. Lupo non mi amerà più. Mannaggia, sono io lo stupido. Come sono triste. Ma cos'è successo al mio superamico? Chiese una voce alle sue spalle. Era la signorina Yeti. Piangendo a dirotto lupo le raccontò l'accaduto. Lei gli fece una grande carezza e gli disse. Inutile piangere sull'atteversato. Cerchiamo di rimediare. Vai a scusarti con lupo e Luigione. Dopo ti sentirai molto meglio. E se lupo non mi perdona? Chi non risica non rosica, rispose la signorina Yeti. Vai, corri! Pieno di vergogna, lupo tornò a bussare alla porta di Luigione. Vi chiedo scusa, amici miei, disse. Non pensavo a quello che ho detto. Non sono stato molto carino. Scusi accettate, sorrise lupa. Lupo e lupa si guardarono con occhi innamorati. Ah, l'amore, sospirò Luigione intenerito. A tavola, miei cari, i macaroni sono pronti. Lupo batte le zampe. Si sentiva leggero, leggero e anche affamato. Il giorno dopo lupo aveva un appuntamento con Valentino. Che cosa gli avrebbe proposto l'amico? Arrivato nella radura, lupo si fermò meravigliato. Davanti a lui c'era una capanna magnifica. L'ho costruita ieri, spiegò Valentino. Ora tocca a te immaginare la tua capanna. Vedrai, inventare fa un gran bene. Più eccitato che mai, lupo sparì nel bosco. Ritornò con le braccia cariche di rami e si mise subito all'opera. Poco a poco prese forma una bizzarra capanna. Manca solo la porta e ho finito, annunciò lupo alla fine della mattina. Mentre posava la porta, questa si incastrò. Lui spinse e badabum! Fece crollare mezza casa. Fai le cose troppo in fretta, lupo! Lo rimbrottò a Valentino. Allora lupo diventò tutto rosso. Batte le zampe e... e fece un grande respiro. Due posizioni di yoga e poi, con calma, si è rimisa al lavoro. Quando terminò, lupo si sfregò le zampe soddisfatto. Yuhu, amici, ho finito, annunciò. Wow, esclamò Valentino. La tua capanna è incredibile! E l'hai costruita senza arrabbiarti, aggiunse Mastro Gufo. Bravo lupo! Lupo sorrise. Per festeggiare vi invito tutti a merenda. Prego, entrate! L'interno della capanna di lupo era davvero affascinante, ma si erano appena accomodati che iniziò a piovere. Aprite gli ombrelli, ordinò lupo allegro. Vedrete com'è bello. In un istante la capanna si trasformò in un gigantesco arcobaleno. Valentino applaudì. Che emozione! Caro lupo, ce ne fai vedere di tutti i colori, ma la vita è molto più divertente con te. Per il nostro super amico, concluse Mastro Gufo, ip 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 urrà!